Ehi, ma ma dove siamo? Ma meglio, è un altro gioco? Ora giocheremo a 1, 2, 3 stella. Finita la conta, bisogna fermarsi. Ho paura, mamma! Ma è una follia! Via! Si inizia! Corriamo! Sono troppo lenta! Stemmo! Perché vi siete fermati tutti? Andiamo! Continuiamo. Non voglio morire! Andiamo, andiamo! Forse se salto. Si, ce l'ho fatta, te la. Così non riesco! Oh cavoli! Speriamo non se ne siano accorti! Oh no, amico mio! Oh no, una farfalla! Giù! Oh no, non voglio fare in aiuto! Ti proteggo io! No! Da capo! Cosa ho detto in fuoco! Anche i perdenti! Oh no! Piccola giubbo, sali in grappa! È vivo! Ci siamo sali! È ciò fatta! Oh no, il tempo è quasi esaurito! Non ci riusciremo mai! Oh cavoletti! Da capo! Forza, togliamo! Ci siamo quasi! Oh no! Vai piccolo! Salvati almeno tu! Oh non voglio che ti muoia mamma! Bella! Voglio bere piccolino! Non scortarti mai di me! Oh no, basta! Forza, mi tutto! La partita è finita! Anche per te! Ehi ragazzi, che combinate! Ehi ragazzi, posso giocare? Neanche per scherzo! Bambam, dai ti prego dammi una possibilità! Eh, non abbiamo abbastanza gioi stick! Vai via! Cosa? Oh, ok! Ci ha creduto! E dire invece che li hai! Eh? Mi hanno mentito! Siete dei bugiardi! Ecco cosa vi meritate! Ehi, ma sei matto o cosa? Abbiamo il sterro! Ehi, tu un bel educato, torna qui! Ma noi devo comprare un altro! Cosa? È in sconto! Ma non posso permettermelo lo stesso! Uffa, non posso mai avere cose belle! Eh? Cos'è questo profumino? Questa sera fa la grazia, va! Come ti sento, pilla? Va bene, grazie! Ah, ma è certo! Aprire un negozio è un'ottima idea per guadagnare dei soldi! Addio, blu, questo è il posto perfetto per far funzionare il mio negozio! E per ottenere i dolci mance! Uffa, dei clienti! Che bomba! Ce ne faccia due, per favore! Sì, signora, in arrivo! Abbiamo due ordini! Subito! Mi metto al lavoro! Oh, oh! In arrivo! Buonissimo, pilla! Solo un po' bezzo e... Wow, fantastico! Siamo pronti! Sfetti! Buonissimi, ragazzi! Ecco qua! Pronti! Buon appetito! Grazie! Mi servono più clienti, ma dove votai? Oh! Allora, come erano? Buonissime! Buonissime! Ciao! Uffa, grazie! Nel barattolo PS5! Oh, ma che... Ehi, ciao, amico! Hai questo per me? Ehi, ci sei saluto! Ragazzi, ordine speciale! Ma non abbiamo il buco! Allora, ma c'è scavoli! Sono subito un superman scappo! E tu? Mi rimetto al lavoro! Escomi qua! Ho ceduto tutti quelli che c'erano! Ehm, ecco qua! Finalmente! Oh, sì, delizioso! Oh, mamma mia! Ok! Mmm, era tutto molto buono! Grazie, bambam! Ciao! Grandioso! Continuiamo! Santo santissimo! Stanno aspettando! Cosa ultima, signore? Mmm, una uova strabocciata, grazie! Ok, ecco te! Buonavedi! Guarda, tutto qui! Cos'era? Un salzio romano! Ehm, vedo che cosa posso fare! Stupido uccellaccio! Oh! Devi farli più grandi! Ma io veramente non! Vedi di muoverti subito! Sì! Ci provo! Oh! Oh, è perfettissimo! Questo lo vendo io! Oh, sì, lo fai io, sì! Ecco lei! Che buono! Questo è quel che si chiama pasto! Oh, mamma mia! Buonissimo! Ecco te! A presto! Quando vuoi, eh! Mua! Ciao, Angelo! Non resisto più! Voglio un doppio hamburger, grazie! Per favore! Ma noi non ne facciamo! Solo uova! Scusami! Ma! Lo dirò a tutti! Aspetta, aspetta! Mamma mia, ma che fretta! Dammi un attimo e troppo prepariamo! Ragazzi, ci serve un enorme bug che ce la fate! Cosa? So io! Cazzo! Mi dica come stiamo! Ne dovremmo fare! Cosa hai detto? Sì, ho fatto un po' che è andato su, mi fa! Vado con lui! Aspetta un po'! Sì, è così qua! Cambiamo corso! Sapevo che ce l'aveste fatta! Ecco te! Fantastico! Mi arrivo di fame! Non bello di mai, bam bam! Prendi! Grazie! Ci si vede in giro? Assolutamente! Cosa prendi, bigetto? Voglio un milione di uova! Un milione! Ma stai scherzando? Papà! Che sta succedendo? Che ti prende, piccolo? Non mi torni da mangiare! Ci penso io, tesoro! Bambana, accontentalo! Ma non è così semplice! Ti capisco così? Oh no! Ma no, non voglio! Vedi di sprecarti! Assolutamente, do uno dubbito! Sveglia, scemoniti! Ma che cosa? Un milione di uova! Era padrone! Wow, assurdo! Eccoli! Oh, evviva! Come sono allora? Delizioso! Grazie per aver insistito! Mami! Mami! Ecco! Ti conviene spiegarti! Colpa della luoga! Mi serve al giudo! Sto per impazzire! Dio! Pum, pum! Li stai stressato! Ma no, ma come ti vengono cec'ho dei te? No, ti avrei pagato veramente lo stesso! Ehi, aspettate! Spiegate! Non c'è che mi spieghi! No, no! Io me li riprendo! Ecco! Ma un culo! Sì! No! Non è giusto! Tutto il mio tuo lavoro! Eh? Oh, cavolo! È tutta colpa mia! Come ho potuto! D'accordo! Ecco, tenete! Sì! 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 Avete stanchi! Sottoposto! Oh, ragazzi! Perché non me l'avete detto? Pensavo fossimo fin! Sì, li siamo! Abbiamo solo corso un po' troppo! Eccomi qua! Sì! Evviva! Giochiamo! Tanto non potete vincere! Certo di me! Oh, ecco ti qua! Sei stato tu! E vai! Questi ora mi riprendo io! Game Over! Di nuovo! Non tutto da capo! Alla prossima, ragazzi! BAM BAM! Ragazzi, siete pronti per la lezione di oggi? Sì! Sì! Buonissimi! Bene, allora possiamo incominciare subito! Quello che dovete fare sarà colpire quell'innocuo monichino! Così! Sì! E che bello! Sarà divertente! Oh, vabbè! Vinciosi! Ma andiamo un po' da che incominciare! Tè! Proprio te! Ok! Quanto sarà mai complicato! Inizieremo col fuoco! Ehi, fermo! Quella tecnica non è assolutamente consentita! Ehi, ma fa fuoco! Aiuto! Aiuto! Vado a fuoco! Chiamati i pompieri presto! Oh, oh! Ci penso io, professore! Bleh! E' ancora arrivo! Ti meriti un votaccio! Uffa, non è giusto! Il prossimo te! Ci penso io! La vita è più semplice con i superpoteri! Ah! Particinello, maricallo! Ah ah! Non avevo chiesto questo! Tornando a posto! Ah 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 ah! Oh, è il mio turno! Darò tutto a me stesso! Bleh! Sul serio? Io non mi arrendo! Ah oh! Oh, non ci riesco! Non posso crederci! Mi aspettavo di meglio da te, sinceramente! Ah 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 ah! Perché non ti fai gli affari tuoi? Ah ah ah! Ehi, ehi! E non esagerare! Ah 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 ah! Ehi, smettatela! Se non la finite vi espello dalla classe! Ah ah! Vai tu, giallo! Aspettavo da tanto questo momento! Non vorrei sbaventarti, ma sappi che i miei poteri sono così potenti da disintegrarti! Ah ah ah! Abbiamo il primo vincitore! Fantastico! Imparate! Dobbiamo il primo! Tocca a me, tocca a me! Forza, fammi vedere! Sopitissimo maestro! Ah ah ah! C'è qualcosa che non va! È davvero passivo! Oso ci penso io! Mi faccio fare move off! Mi faccio vedere! Modalità gattiva attivata! Ah 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 ah! Caramassi, non hai proprio capito l'esercizio! Non mi interessa del tuo compito! Eccomi policia! Chi è il maleducato qua? Questo qui? Sei tu? Aspetti, stavo solo facendo il compito! Ora basta, scarrafone, vieni con me! Ok, chi è il prossimo? Io, finalmente! Posso farcela! Va bene, così! Questo non è un gioco e non mi importa che tu sia un bimbo! Oh, no! Oh, ma cosa sta succedendo? Senta il mio piccolo piangere chi è stato? È forse colpa tua! Oh, no, 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 non è certo colpa mia! E invece sì! È stato un errore, te lo giuro! Non far piangere il mio bimbo! Ora è il mio turno! Sono più che pronta! Lascia che ti faccio il tonelettico! No! Fermati! Oh, wow, che ficata! Ottimo lavoro! Ce l'hai fatto, bravissima! Sì, non è vero! È vero! È vero! Lo scio-iniezione! Non riusciranno mai a prendermi! Percepisco qualcosa! No, non penso! Guarda, quel disegno si rivela la verità! Oh, quindi il piccoletto ha i poteri magici! Puoi farci da qui, dai! Guarda, l'artefatto che cerchiamo! Prendetelo, ce la potete fare, dai! Penso che non ci siano altre soluzioni! Sì, hai ragione! E allora diamoci da fare, forza! Andiamo! Non aver paura, ok? Forza! Porca macchia! C'è mancato fuoco! Corriamo via, forza! Attenso, sto attento! Oh, ultimi riflessi! Ci siamo quasi, dai! Questa volta riuscirò a prendermi! Attenso, stai attento! Vi ho presi, creaturine! Stai bene, vero? Sì, chiamo! Andiamo, forza! Stai bene, piccolino? Sì, sì, certo! Perfetto, allora andiamo via! No, tu vai! Io lo terrò d'occhio qui per te! Sei un bravo soldatino! È il mio lavoro! Ciao! Dai, ogni tanto è bello vincere! Ecco il fine dei giochi! Scusami, è colpa mia! Lascia che ti dia una mano! Sul serio? Forza, senza complimenti! Molte grazie! Prego! Guarda, mi è caduto questo! Oh, oh! Non me ne ero mica accorto! Grazie! Forse posso aiutarti! Seguimi! Guarda! Quella porta è la tua risposta! Ma ho così paura! Ne va proprio! Avanti! Dio vuoi gli attributi! Buttati o basta! Eh, ma io... Ok, allora vado! E là? Oh! Capperi! Sono solo dei costumi, vero? Spero di sì! Eh, ti ho preso! Lo sapevo! Sei un ladro! Non ascoltarlo! Dai, gesto! La scena è il nostro territorio! A chi vuoi che interessi! Ah, io vorrei solo andarmene! Ah! What up! Adesso! Mi ha colpito! Prezzino! Piccoletta! Mi prego fermi! Sei intrapolato come un stavo! Ah! Eh, per un pelo! Mmm! Eh! Ma che hai fatto? Ho preso l'ingranaggio! Ottimo lavoro! Eh! Non voglio! E basta! La porta! Posso chiudere! Sento cielo! Bravo! Oh, vai nell'altro strato! Eh dai! Devo proprio! Eh, senti! Eh dai! Ce lo puoi fare! Ciao! Simpatico! Che cosa è stato? Eccovi! Avanti! Affrontami! Eccovi qua! Oh, no! Oh, mio testo! Aspetta! Messi! E vai! Penso di aver capito e sarà un gioco di ragazzi! Oh, che faccio! Ok, ecco il pulsante! Quando lui preme quello! Mi conviene fare in fretta! Uno, due e tre! Ciao, Vabbèo! Oh, tu, ma ti non finisci qui! Oh, ti smaccia! Porca paletta! Meglio correre! Mi conviene andare di qua ora! Perfetto! Giusto il tempo! Spero! Eh? Eh? Forza! Prendimi! Questo ragazzino mi fa impazzire! È così che si apre una porta! L'avevo detto che sarebbe stato facile! Se non ti dispiace, questo lo prendo io! Eh? Ehi, grazie, seriffo! Nenca un problema! Tutto a posto? In effetti, sì, vale la grazia! Il momento della spazza è giunto! Stam tanto del ritiro! Allora va subito fermato! Vabbè, ridurre! Andiamo! Eh? Oh, ecco una stramestà! Eh? No, che brutto ritiro! Non ti preoccupare! Ci sarò io, guarda! Ehi, come... Non èinto il caldo di riaddormettarmi! Qualcuno l'ha fatto ridere, no? Non lo sto facendo per voi! Vediamo se magari suami staccano un po' di salenti così decide a ridere! E dai, che scutò! Allora, così! Devi far saltare! La mia persa! Wow, ti sono riuscita! Sì! Lo dobbiamo andare via! Prima di quanto si tratta è il mio! Sì! Come? Bello, presto! Non mi lascio di prenderlo! E dove devi scappare! E ho deciso dopo aver fatto il tuo cranacchio! Abbiamo perso il dico d'acqua! Che era fatta arrabbiare! Che cosa faccio io? Sceriffo! Eeeh! 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 Hanno lasciato gli ingranaggi per terra! Ok, prendiamoli e oplà! Ahahah! Nessuno può battere l'altore! Wow! L'hai proprio messo capò? Grazie, ora dobbiamo montarci un ridicolo a porta! Maledetti! L'appagherette! Manco pochissimo e potremmo mettere in gioco! Ahahahah! 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 L'assertore è aperto! Ahahahah! E se a me di andare via senza questo? Ahahahah! Ahahahah! Forse è meglio che me la sbrighi da solo! Ecco! Ora vado! Eh? Ah, ho dimenticato questo! Ahahahah! Guarda che posso attivare tanto il peggio! Ahahahah! Sceriffo no! Beccati! Ahahahah! Ahahahah! Aspettate! Ahah! Sei stato bravissimo! Guarda, abbiamo tutti i pezzi! E con questo abbiamo vinto! Ahahahah! Ahahahah! Alla prossima ragazzi! Ahahahah! Ahahahah! Cosa è stato? Ahah! Mi ha scappato! Ahahahah! 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 Senti! Facciamo anche no! Tanto! Però poi però!! Aiuto magari qualche roba!! E' un pupazzo! Ahahahah! C'è mancato pochissimo, eh? Beccati questo! Andando! Ah, puoi fermarti! Eh? Guarda! Ah, finalmente! Per lavoro, giovanetto! Appresso il tuo enorme sforzo! E questo? No, non era niente! Basta, continuiamo il diverso! Qui va, giocatore! Mi vieni a dare un attimo una mano! Ok, perché no? Senti, ho messo la gona! Ho messo che sia lì dentro! Tutto chiaro! Torna subito! Vediamo! C'è un sacco di roba qui! Sembra un magazzino! Eh? Oh, eccola lì! La prendo mentre nessuno mi guarda! Ma cosa prendi, ero? No, prendo il prestito! Perché sei così saluto? Siamo volando in colla! Santa capa santa! Stai bene, giocatore! Assolutamente! Bene, o aviamolo alla origina! Altre missioni? Ah, ma sono stanchissimo! Va bene, io ci andremo, quindi ecco... Sì, lo so! Fate largo! Eh? Ma che... Sento cielo, ma basta! Aiuto! Ma perché capitano a me? Ma certo! Ehi, ciao, Vincenzo! Ehi, dai, fammi vedere! Ma sono sbagliata, amico! Ancora uno, forse! Ah, cosa hai detto? Ah, niente! Ah, ah! Ah! Che male! Oh, so di bimbo! Ma bimbo a chi? Eh, allora dimostra però! Ah! Ah! Allora è tutto qui quel che sai fare? Come osi! Ah! L'ho battuto? Davvero? Ah, povero vincetto! Stai bella! Valedetto! Meglio andare via! Ciao, giocatore! Siamo da questa Pauwi! Sei vivo! Eh certo! Ti basta questo? Assolutamente! Ma dove va? Aspettaci! Eh, eh, aspettaci! Allora, che te ne pare? Se te lo do, mi dai un bacetto! Oh, davvero? No, grazie! Non mi piaci! No! Mamma mia! Ah, eccomi qua! Oh, no! Forza, andiamo, piccoletto! Eh, sì! Ehi! Vogue! Prendi questo! E questo! Ecco! No! Poverino! Non la passerai, liscia, mostro! Facci piano, cacca! Forza, bimbo! Ora stai fermo! Chester! Ti ordino di liberarlo! Ma penso proprio! Aiuto! E tu cosa pensi di fare? Vai in polizia! E io, 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 mi dispiace! E io, 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 mi dispiace! Aaaaaaah! Mi hai salvato, piccoletto! Sei un eroe! Aaaaaah! Aaaaaah! Fantastico! Il mio cibo preferito! Aaaaaah! Me lo mangio io! Aaaaaah! Aaaaaah! Ora me lo paghi! Cosa vuoi fare? Aaaaaah! Bene, altifasto fatto! E' ora di passare alla portata principale! Devo fare piano, rischio di svegliarla! Oh, oh, oh! Ehi, cosa devo... Ehi! Stavo dormendo! Cosa pensi di fare? Te lo dico io, mangiati ovviamente! Aaaaaah! 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 E dai, vino a aspettare! Sono più forte di te! Ciao! Fammi i vostri! Aaaaaah! 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 Eee? Bambane no! Non preoccuparti, ora arrivo pure da te! Ma ti disite qua! Vecca di questo, vai, 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 un attimo, che al prossimo? Mamma aiuta, che buono! Ok, ci metto io! Fai una prova piccola! Sento dei rumori strani! Non ci riesco, non ho boccato molto! Lascia che ti aiuti! Ecco qua, contento? Sì, è terremoto! Vado io! Mamma che? Sì, ora vi pappo tutti e tre! Come ti permette? Non sono evolutabile! Ci conviene correre! Via! Tornate qui! Ci prego! Me la sto facendo scusare! Così mi piacete! Mamma, è la corona di blu, quella! Ed ora tocca a voi! Eh? Beh, tu! Lascia stare quel povero creatore! Vuota! Ma smettila! Mamma! La situazione è peggiore! Stai bene, piccolo? Sì! Non preoccuparti per me! Ma ora tocca a voi! Ah! Ah! Cos'era quel rumore? Ehi! Aiutoci di prego! Dobbiamo scappare! Ah! Eccoti! Ah! Oh no! Scappiamo! Che sta succedendo? Vabbè, dai! Troppiamo l'uscita! Mi sono addormentato! Ah! Adesso me la paghi! Ma che stai dicendo? Noi siamo amici! Non mi interessa! Ora ti faccio! Oh no! Oh no! Giambi! Ed ora so! Grazie, è apposto così! Piccolo, vai! È la tua occasione! Buona fortuna! È un incubo d'occhio a merdi! Oh no! Giambi! Cavoli, se era buono! Devo correre! Eh? Cos'è questo posto? Non lo conosco! Eh? Chi sono quelli? Sono piccolo, abbiamo creato un punto sicuro per noi mozzo in modo da potersi barricare assieme! Non mi fermo la fo... Eh... Ok, non me lo aspettavo, ma... Aià, dove mi nascondete? Sono in posizione, colonello! Avanzi, fuoco, fuoco! Mi fai voglio! Ne voglio ancora! Bene, è una saccola sorpresa! Sorpresa! Ha solo visto insieme! Ti hai mancato! Oh no! No! No un sito! Sai, è colpa tua! Oh, ora tocca a me! Oh no! Abbiamo finito i colpi! Mi spiace non ridarvi i piari, vai ora di mangiarli! Eh, cagli questa! Ah 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 ah! Eh? Oh, l'abbia tocca! Cambattimi, forza! Ho essi forse di potermi scostigliare! Perciò che sì! Oh ah ah! Lasciami! E se faccia così? Ah! Oh, basta! Non ho finito! Questo è solo l'inizio! Ora vedrai di che cosa sono che faccio! Ah ah ah! È troppo forte! Non riesco da farvi! Eh? L'ho ucciso? Beh! Immagino... Immaginati sì! Ah ah ah! Beccati! Questa! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Ah ah ah! Così infari, maledetto! Ho corrasso nella manica! Via la nostra ultima speranza! Ah 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 ah! Un po' da! Ho cambiato colore! Che sta! Ah 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 ah! Eh ma cosa è successo? Siamo ancora vivi? Ah 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 ah! Cos'è quella creatura? Ah 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 ah! Oh, ciao ragazzi, sono contento di vedervi tutti i seri e salvi! Si sono un wikibaw! No, non scappate! Eh? Sono io! Oh, mamma mia, meno male! Ma lo confo! Nooo, che cosa ti è? Deve essere stato uno di noi! Eh? Non mi ricordo chi era con lui l'ultima volta... Oh, ma certo, eri tu, Ciono! Eh, ma non sono stato io! Confessa, sciocca! Confesso! Nooo, lasciate che mi spieghi! È vero, stavo malvagiamente pianificando! Ma non è un omicidio! Ho visto Arancio preparare una torta e volevo fregargliela! Ho aspettato ore che se ne andasse e poi come un ninja gliel'ha rubata! Il mio piano ha funzionato! Arancio rimase scioccato dalla scomparsa! E io non sono che contenta! Poi è arrivato Verde che gli ha fregato il milkshake! Arancio si arrabbiò molto e hanno iniziato a litigare! Questo è il mio alibi! Non sono stato io! Ok, ora sappiamo chi mi ha fregato la torta, maledetta creatura! Un momento! E tu cosa mi dici invece Arancio? Io? Ma 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 come? Ma che sei dicendo? Avanti! Confessa! Muoviti! Non è come pensate! Lasciate che mi spieghi! Oggi avevo proprio una fame da lupi! E avevo bisogno di mangiare qualcosa! Poi ho visto Blue portare una bella torta e ho pensato... Wow che coincidenza! Dovevo fregargli quella bella torta! Non hanno dato la mia presenza! Così gli ho ferrato la torta in 4 quadrat! Quindi non era colpa mia! Antipatico mi hai rubato la torta! Così impari! Ma volevo mangiare io quella torta! E allora? Sei stato tu Birdy! Che cosa? Non sono stato io! Dovete credermi! Vi dico cos'è successo invece! E stavo giocando con il mio piccolo e rotondo amico! E gli ho chiesto che fine avessero fatto agli altri suoi amichetti! E mi ha detto che erano intrappolati in una gabbia! Erano proprio di fianco a noi! Inizialmente ho avuto paura che tu Rosso potesse arrabbiarti se li avessi liberati! Perché ce li avevi messi tu! Però non potevo lasciarli lì e li ho liberati! Ho aperto la gabbia e li ho lasciati liberi finalmente! Erano così felici! Poi però sei apparso tu! Proprio mentre ci stavamo divertendo! Il che ti ha fatto infuriare! Mi dispiace Rosso ma non posso permetterti di trattare male i miei amici! E questo è quanto! Come osi parlarmi in questo modo? Vieni qui! Nooo! 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 Hai rovinato tutto! Mettila Rosso sei tu il colpevole! Eh? Assolutamente no! E ora vi spiego! Stavo camminando tranquillamente quando ho visto Blu con la torta! E proprio come voi ho provato a fregargliela! Ma Arancio era decisamente un passo avanti a me! Aveva rubato prima di me! Così ho deciso di seguire Arancio per vederne gli sviluppi! Era lì che voleva mangiarsi la torta tutto da solo! Ho aspettato finché non fosse distratto! Ma già non mi ha fregato prima! Ma io volevo quella torta! Così glielo soffiata da davanti! Ha 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 ha! Vedete? Sono polese! Sei colpevole! Nooo! Eh? Ah! Che sogno bizzarro! Eh? Ma sei vivo e non ti credevamo a morte invece! Eh? Cavoli no! Poco fa stavo volando! Ma mi sono addormentato in cielo e sono piombato per terra praticamente! Capito? Visto? Mica ero morto! Tutto qui! Ha 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 ha! Ma ha ha ha!